Questa città per certi aspetti è simile alla mia, è una città costiera che dispone di risorse ricche ma che però presenta il problema dello sviluppo di tali risorse. Le riserve della città di Qingdao non solo consentono ai pescatori di godere di maggiore benessere ma per merito della ricostruzione di aree naturali marine come queste è anche l'ambiente a trarre beneficio. Tale metodo potrebbe servire come spunto anche ad altri paesi come l'Italia per esempio. Per questo credo sia l'argomento interessante di cui parlare. Vi invito dunque a seguire l'esplorazione per capire meglio la Cina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.